Mille voci, mille voci, so duemila voci, tremila voci, tutti dovete partecipare, partecipo sempre anch'io, ormai faccio parte della tappezzeria, di questo, eh sì eh, eh sì mi hanno dato anche la pensione, ciao, mille voci, 2019 ci sono anch'io, ci sono grandi artisti e cosa dire di più, evviva mille voci, io improvviserei già, mille voci, come la mia, mille voci con Santino Rocchetti, seguiteci su questa emittente, a presto! Ciao, li apprendiamo! Ciao!